Grazie a tutti. Il mezzo ha ricevuto la segnalazione circa la presenza di un gommone fuori controllo in località Cala dell'Olandese. Il mezzo ruotava su se stesso a causa della rottura del timone e conseguente caduta in mare del conducente. Accertato che il conducente era stato già tratto in salvo da diportisti presenti in zona, è stata immediatamente inviata sul posto una motovedetta per prestare assistenza e soccorso ed in particolare vigilare sulle unità da diporto presenti in zona, al fine di evitare collisioni con il mezzo ormai ingovernabile. Giunta sul posto, la guardia costiera ha recuperato il gommone senza controllo e pericoloso per la sicurezza della navigazione. C'è giunta segnalazione da parte di un cittadino algherese della condizione indecorosa in cui versa parte della passeggiata Buschè, a causa della presenza di diversi alberi di more che oramai, giunta a maturazione, cadendo imbrattano il marciapiede della zona. Il percorso non è più inoltre fruibile a causa della mancata potatura dei rami che impediscono il passaggio, ennesimo esempio della scarsa attenzione alla pulizia della città e causa di continuo lamentele da parte di cittadini e turisti. Lanci Sardegna organizza giovedì 11 luglio ad Alghero una conferenza per approfondire il tema dei nuovi tasserini e pass per disabili. L'obiettivo è quello di creare una banca d'atti unificata così da rendere più agevoli gli spostamenti per i disabili in tutta Europa. Novità importanti per tutti coloro che usufruiscono dei contrassegni e pass per disabili. L'Italia si è infatti adeguata attraverso il decreto 151 del 2012 alla raccomandazione del Consiglio europeo inerente l'adozione del contrassegno unico europeo per disabili, il quale sarà dunque utilizzabile in tutta Europa. Sono state a tal proposito organizzate da Lanci Sardegna due conferenze, la prima a Cagliari, la seconda ad Alghero. L'obiettivo è quello della creazione di una banca d'atti unificata. Così infatti spiegano da Lanci si è pensato di creare una vera e propria banca d'atti online unificata nazionale, il registro pubblico CUDE, un anagrafe nazionale nella quale ogni amministrazione comunale potrà condividere i propri dati con tutte le altre amministrazioni italiane per la gestione dei rilasci, nuove emissioni, rinnovi, modifiche, cessazioni dei contrassegni disabili. L'obiettivo è quello di facilitare i controlli, la validità e l'autenticità in tempo reale a supporto dei comandi di Polizia Municipale. E aggiungono, la banca d'atti rappresenta la base ideale per rendere più veloci i processi amministrativi, rendere più efficaci i controlli incrociati in tempo reale e contrastare efficacemente la contraffazione. Il tutto a favore delle persone disabili, alla pari di tutti i cittadini, facilitando gli spostamenti da un comune all'altro, senza dover incontrare differenti regolamentazioni all'accesso e al diritto al parcheggio. L'appuntamento algerese è quindi per giovedì 11 luglio, dalle ore 10 alle 13.30, presso la sala convegni Polissoccorso di Via Liguria. Dopo il successo della passata edizione, anche quest'anno sono state organizzate le serate di svago per anziani e disabili, che si terranno presso il Luna Park Matterland nel porto di Alghero. L'assessorato ai servizi sociali, dopo il successo dell'iniziativa della passata estate, conferma e amplia le serate di svago a favore di anziani e disabili. Grazie alla collaborazione della Matterland, che ha offerto la propria disponibilità a creare momenti di integrazione sociale, saranno messe a disposizione gratuitamente le varie attrazioni del Luna Park della banchina Mille Lire. Gli appuntamenti, rispetto allo scorso anno, diventano quattro e sono aperti ai comuni facenti parte del plus. L'amministrazione, spiega l'assessore servizi sociali Romina Caula, ha voluto continuare e sostenere questa proposta, facente parte del progetto di promozione del benessere per gli anziani e per i membri delle associazioni di volontariato. Nella scorsa estate l'iniziativa è stata molto apprezzata e quest'anno abbiamo voluto moltiplicare le giornate di svago ed estenderle ad associazioni che operano nel distretto di Alghero. Grazie alla generosità di Matterland, infatti, aggiunge, abbiamo potuto incrementare il programma, che ha dimostrato di avere un'alta valenza inclusiva, considerato che nella scorsa stagione fu un'anima il gradimento da parte dei responsabili delle associazioni che hanno partecipato all'iniziativa, coivolgendo e accompagnando i propri associati. Nel corso di questa estate saranno quindi quattro le serate di questo importante progetto, il 15 e il 29 luglio, il 12 e il 26 agosto. Il 18 giugno scorso, presso il liceo scientifico Enrico Fermi di Alghero, si è tenuta la premiazione del concorso Aresis, organizzato dall'Ognun Cultural dell'Alghier. Abbiamo intervistato il primo classificato Gianfranco Fois. Ognun Cultural, tambenanguano, organizzate le concorsi dei video Aresis. Sono arrivati nuovi video, presentati da scuola, associazioni di volontariato, associazioni culturali e privati. Abbiamo già donato i premi l'altra settimana, l'anguano era organizzata in tre sessioni, professionisti, scuola e amatori. La categoria professionista, ha partecipato i vinciti Gianfranco Fois, che è il Tani Mananchì, ha un video dedicato al bombardamento del 17 dei Maci del 43, ha il titolo Silenzi Truncati. È un video che fa la storia di queste avvenimenti storiche, e ha intervistato anche delle persone che hanno partecipato a queste fette storiche alghierese. Abbiamo anche Gianfranco Fois, che è l'autore del video. Ieri domandiamo come ha pensato a questo lavoro e lì si pensa di continuare a fare un video dedicato all'algheresi per valorizzare la cultura alghierese e la parola alghierese. L'idea di fare un video sul bombardamento è nata quando ci siamo resi conto che quest'anno era il settantesimo anniversario, quindi comunque volevamo fare qualcosa per commemorare questo evento, che comunque per la città di Alghera è stato molto importante. Quindi l'idea è stata quella proprio di dividere il video, in realtà è diviso in due parti, una parte dedicata agli studiosi, agli storici, e una parte dedicata alle testimonianze di chi ha vissuto direttamente questo evento. Pensate di continuare a trabagliare a monti della cultura alghierese? Ci sono un po' di idee ancora in basso, adesso prossimamente inizierò a lavorarci sopra e vediamo un po'. E ora qualche minuto di pubblicità, tra poco.